Hai una partita IVA ed emetti scontrini o ricevute? Da gennaio 2020 la legge prevede l'obbligatorietà dello scontrino elettronico. Per questo BCC ha creato SmartPos, un prodotto che unisce le funzionalità del POS a quelle della cassa e alla fatturazione elettronica, in grado di accettare qualunque tipo di carta di pagamento. Inoltre gestisce diverse app, tra cui quelle di accesso ai servizi, già precaricate, ed è integrabile con MyCashApp, la funzionalità di registratore di cassa in grado anche di gestire la fatturazione elettronica. Disponibile in due versioni, light e full, lo trovi in tutte le filiali BCC Caratebrianza. BCC SmartPos, rivoluzione digitale per il punto vendita.